Buonasera, buonasera a voi. Allora, mi capita spesso che qualcuno di voi mi possa scrivere che insomma dovrei riprendere molto di più quelli che usano un atteggiamento troppo violento nei confronti delle persone in generale e nei confronti magari di quelli che così sono per loro dei nemici. Io ho sempre risposto che questo è un canale dove ognuno deve assumersi le proprie responsabilità ed è attraverso i comportamenti dei singoli e quindi ovviamente nella fattispecie il mio comportamento perché sono io che sto parlando a voi che si dà l'esempio. Ognuno può giudicare come il mio approccio, quelli che mi conoscono da molto più tempo ma anche quelli che magari mi hanno scoperto da poco. Sicuramente io non sono una persona che le manda a dire critico quando c'è da criticare in maniera anche assai feroce. Però io credo che a tutto c'è un limite sia nella maniera in cui uno si esprime ma ripeto da questo punto di vista ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Io non sono qui per bacchettarvi o per censurarvi. Ripeto, qui ognuno si prende le proprie responsabilità. Quello che mi sento sicuramente di dire è che di fronte alla malattia, di fronte alla morte invece ci debba sempre essere rispetto. Noi dobbiamo imparare a confrontarci in questo paese, lo dico in linea generale, in maniera sì dura perché io non sono certamente un buonista e non mi piacciono i buonisti ma tenendo sempre conto che l'essere umano va rispettato e che bisogna rispettare in generale certe regole. Perché questo lungo preambolo? Perché già ieri da quando sono uscite queste notizie della salute di Fedez ci sono stati commenti che io ho letto sui vari social molto ma molto cattivi che io assolutamente non accetto. Voi sapete quanto io ho criticato la coppia Fedez-Ferragni, quanto io non sono assolutamente d'accordo con le loro posizioni, con le loro esternazioni. Però ripeto di fronte alla malattia, di fronte al rischio della vita di una qualsiasi persona e quindi anche di Fedez solo il massimo rispetto anche perché teniamo sempre conto che si tratta di un uomo giovane, un 34enne che ha famiglia, che ha figli e quindi dobbiamo e bisogna essere da questo punto di vista rispettosi. Per quei pochi che non lo sapessero è stato operato d'urgenza per delle emorragie interne dovute anche, come ha spiegato oggi il chirurgo che lo ha operato qualche tempo fa per il tumore al pancreas, che questo è un po' una conseguenza e potrebbe anche non essere l'ultimo episodio. È chiaro che è una situazione assai critica, sicuramente non bella per Fedez, la Ferragni è corsa subito con un aereo che ha preso ieri sera al capezzale del proprio uomo e ripeto da questo punto di vista solo rispetto. In linea più generale dico che molte delle cose che succedono nel nostro paese sono proprio per queste divisioni. Ci sono persone che pensano che se uno politicamente non è schierato vicino alle loro idee ma se su un qualsiasi tema esprime un'idea diversa diventa un nemico. Capite che questo non ci permetterà mai di unirci invece intorno a quelle che sono le cose più importanti della vita ed essenziali pur nelle differenze. Perché se le differenze anche le minime ci fanno paura o ancora peggio ci allontanano da tutti gli altri ed abbiamo un atteggiamento duro addirittura di ingiurie, di minacce, di insulti, noi non riusciremo mai a fare numero. È di tutta evidenza che per fare numero bisogna anche cercare di accettare posizioni che non sono sempre uguali alle nostre da parte delle persone. È chiaro la cosa che ci deve accumulare per fare gruppo sono gli ideali più importanti della nostra vita sui quali non si può transigere. Ma su tutto il resto secondo me bisogna capire che sarà difficile che al 100% ci si trovi sempre d'accordo. Ma in conclusione ripeto voglio dire che di fronte alla malattia, di fronte alla morte di un qualsiasi soggetto ci vuole solamente un grande grande rispetto e non accetto le cose che ho letto anche in queste ultime ore. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.